Buongiorno, sono l'insegnante Saverio Gallucci, un insegnante di scienze, una collega Picciocchi Stepanio, italiana. Abbiamo realizzato insieme ai nostri alunni della classe terza per presso gli ACP di cimitile, questo cartellone. Come potete vedere rappresenta un fiole, perché il fiole è vita, con i vari petali che rappresentano tutte le energie rinnovabili. Noi abbiamo deciso che nel caso dovessimo avere la fortuna di vincere, acquisteremo del materiale didattico per la classe. Grazie. Buongiorno, sono l'ambasciatrice Milana Iengo, ringrazio la preside, gli insegnanti e soprattutto di voi, votateci. Grazie. 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 Grazie a tutti.